Taranto, città vecchia, largo San Martino, una zona che dovrebbe essere il fiore all'occhiello della città vecchia proprio per il panorama che esprime, ma una zona che purtroppo si è trasformata a causa dell'assoluta incuria e del benefreghismo dell'amministrazione comunale in un'area assolutamente degradata, un'area che è un ricettacolo di sporcizia, di rifiuti, di erbacce, di ratti e quant'altro. A chiamarmi è uno degli abitanti della zona, il signor Raimondo Sale, il quale mi diceva giustamente io già ho un quadro clinico, un problema oncologico, è affetto da un cancro ai polmoni e dice ma io posso vivere in queste condizioni, in una situazione di sporcizia diffusa, per ogni dove, pazzesco? E niente, parecchie volte abbiamo chiamato, non puliscono qua da quasi un anno, abbiamo chiamato, ho mandato l'email all'ufficio dell'ambiente, all'ufficio comunale, all'ufficio alla polizia municipale, però non si è fatto vedere nessuno, purtroppo io abito a pieno terra dove siamo costretti, ho messo una cosa di legna perché ci sono i ratti, ci sono le... Che entrano... Ci sono tant'altro, non è che possiamo... Io posso ai bambini minori, non è che posso stare così. Ho chiesto un aiuto che venga qualcuno a pulire, ma ancora niente. Ecco, la cosa assurda è che il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ha il barbaro coraggio di dire stiamo seminando la rinascita, si vanta tanto della riqualificazione della città vecchia. Purtroppo una zona bellissima che in altre parti d'Italia sarebbe stata adeguatamente valorizzata, ma valorizzata al massimo, qui, ripeto, è diventata una discarica a cielo aperto. Allora, ripeto, c'è stato l'assoluto menefreghismo da parte dell'amministrazione comunale, io interverrò perché l'amministrazione comunale deve dare le disposizioni all'amio o comunque provvedere alla bonifica dell'area, perché qui stiamo parlando di salute pubblica, stiamo parlando di pubblica incolumità che riguardano tutti i cittadini di Taranto e tutti gli abitanti di Taranto, ma in modo particolare la persona qui a fianco che è già invalida, che ha delle serissime, gravissime patologie e che, ripeto, questa situazione di sporcizia, queste situazioni particolari potrebbero ancor più peggiorare, diciamo, il suo già di suo precario appunto quadro clinico. Quindi io dico è possibile che in una città che vuol dirsi civile accadano queste cose, quando io più, e non voglio ripetermi, ma quando ho detto che purtroppo Taranto è una bellissima città, ma è ridotta ad una città del terzo mondo, è la sacrosanta verità. Siamo pure all'oscuro qui, se vedete, ho dovuto mettere delle lampade, dei faretti e spenti. Quindi, come dire, guai su guai, abbandono su abbandono, degrado su degrado. Quando sento il sindaco che parla di riqualificazione, di aver seminato la rinascita, se questa è la rinascita, caro Melucci, potevi star tranquillamente fermo, visto che ogni cosa che fai, fai soltanto guai. Potevi star a dormire. Ma già dorme, già dorme politicamente. Quindi, a questo punto, io ripeto, da consigliere comunale interverrò e pretenderò la bonifica di quest'area, perché qui si rischiano serie, serie, serie infezioni. Consigli, l'altra mattina, l'altra sera il bambino è caduto da delle grade, meno male che non le grade pericolose, sì, abbiamo visto, mancano proprio le grade e all'interno di queste grade mancanti si annida l'immondizia. Bene, caro Melucci e cari signori dell'amministrazione comunale, o vi darete da fare, interverrete in tempi rapidi o io, amministrativamente, non vi darò tregua. Lo sapete come sono fatto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.